Nella vaccinazione anti-influenzale e anti-covid, si collega una domanda che è stata fatta, eventualmente in questi pazienti possono essere utilizzati anche i farmaci anti-covid, lui li ha chiamati personalizzati, ma i farmaci, i remdesivir o qualche altro farmaco che... Rispondi tu? Rispondi. Nel periodo la vaccinazione anti-influenzale è estremamente importante, così come lo è la vaccinazione anti-covid, anche se abbiamo visto che la malattia è diventata meno aggressiva, da meno sintomi eccetera eccetera, però nei pazienti immunodepressi può essere sempre pericolosa, quindi comunque anche la vaccinazione. Sul discorso dei farmaci antivirali e quelli che utilizzano gli anticorpi eccetera, sulle nuove varianti sembra che ci sia comunque un'efficacia, per cui anche per cui anche quelli possono essere utilizzati nel caso in cui ci sia la necessità di farlo. E i farmaci possono essere usati eventualmente? Sì, non è probabilmente la stessa efficacia di quando avevamo la variante Delta e tutto il resto, però comunque sono efficaci. Forse, adesso senza fare i nomi, uno non sembra essere particolarmente efficace, però gli antivirali comunque sì. Grazie. Grazie a tutti.